ok buongiorno a tutti scorsa avventura letteraria con thomas mann ho iniziato a leggere thomas mann da morte venezia che ho letto iniziato a leggere di recente e ho finito di leggere in in due giorni due giorni hanno finito è un libro molto corto sulle 90 pagine ma è quella è la bellezza perché anche altri autori del novecento pubblicavano libri assai corti è la capacità di descrivere un mondo in declino in pochissime in pochissime pagine che è anche un testimo una testimonianza alla bravura dello scrittore la morte a venezia è un libro dalla la quale lucchino visconti ha preso attraverso la quale lucchino visconti ha riprodotto uno dei suoi celebri capolavori che si chiama che ha lo nome che ha lo stesso nome il quale è una sorta di monologo interiore e di ricordi del protagonista con veramente pochi dialoghi all'interno e questo fa vedere proprio la grandezza della letteratura tedesca idealista soprattutto ma soprattutto molto intimista intima ideali tedeschi erano come possiamo vedere già dall'inizio con gote con gote erano basati sul sulla gioventù e sul sul tempo che passa e che passa inesorabilmente in un tempo veloce infatti nel suo libro fa un riferimento a al faust di gote questo ci riporta al medesimo tempo al eroe romantico l'eroe romantico che in questo caso è Gustav von Aschenbach che nel film ricorda molto la figura alla quale l'autore si voleva ispirare con il nome che è la figura del compositore Gustav Mahler il quale viene usato da lucchino visconti per comporre la la musica di sottofondo dell'intero film dell'intera opera il monologo interiore è una è importante soprattutto in questa nelle opere letterarie di questo e di questa epoca lo vediamo utilizzato nelle nello stream of consciousness quindi nella 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 nel arrivo della coscienza che viene usato con la coscienza di Svevo il libro di Italo e la coscienza di Zeno il libro di Svevo e nel nel Ulysses e anche nella 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 ricerca del tempo perduto di Proust sono tutti libri molto più lunghi rispetto a questo questo vuole significare e il lo scopo di questo libro non è la vera e propria tecnica quindi il vero e proprio ricordare ma è il la contrapposizione della vita passata del dello scrittore che si è sempre a che ha sempre passato la vita con gli ideali soprattutto legati molto all'estetica ideali che sono che arrivano dal da Egel e che nell'estetica vedeva proprio una fonte di interpretazione che non doveva basarsi soltanto sulla sulla sull'arte stessa della scrittura ma anche nelle opere d'arte vera e propria e si vede anche la contraposizione tra appollinio e dionisiaco appollinio e l'appollinio e il dionisiaco sono temi che si che si ricollegano a Nice un filosofo al quale Mann era molto legato e sono temi che ricorrono all'interno del libro negli stessi monologhi dello scrittore dello scrittore von Aschenbach per vedere meglio per per avere un'idea migliore di cosa è morta Venezia per me è un libro che sicuramente è una cronaca di un'epidemia ovvero della contraposizione tra lo scopo economico quindi i valori socio economici che si basano sul turismo per la città di Venezia i quali si contrappongono ai valori umani veri e propri della sicurezza delle persone nel comunicare la la stessa avvenuta dell'epidemia questo è un una contraposizione anche una vera e propria lotta che sono anche che anche una lotta abbastanza moderna come possiamo contemporanea che mi anche abbastanza contemporanei che si rifanno molto al all'epidemia che c'è stata del covid dove non è sta cioè dove in alcuni paesi come il nostro ha fatto proprio una c'è stata con una vera e propria ha creato una vera e propria crisi perché ha bloccato tutto il settore del turismo quindi questa in breve è morta Venezia per me morta Venezia anche quel rapporto che si instilla tra l'autore tra lo scrittore che è von Aschenbach che è il personaggio creato e ideato da Thomas Mann e il protagonista e l'altro è il secondo protagonista il personaggio secondario che è Tazio Tazio rappresenta i valori estetici del appollinio possiamo fare questo questo paragone mentre nel caos e nella vera e propria follia e anche nella vera e propria memoria del passato possiamo collegare al dio noisiaco lo stesso von Aschenbach è un paragone che mi piace sottolineare comunque è un paragone che mi è venuto a me per il resto spero che vi sia piaciuta questa breve visione della mia lettura passata e vi saluto e alla prossima cari spettatori Grazie Grazie Grazie